Ciao a tutti e benvenuti su Bimbi Creativi. Tra poco vi svelo la nuova scheda che è ispirata alla primavera. Prima di iniziare però vi ricordo se mi guardate su YouTube di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, se mi guardate su Facebook di mettere like alla pagina e se mi guardate su Instagram di seguire il profilo. E visto che ci siete, se avete TikTok, seguitemi anche lì. Ultima cosa prima di iniziare, vi ricordo anche che se vi piacciono i lavoretti creativi potete trovare i miei libri su Amazon, questi ad esempio sono quelli più inerenti al periodo, Primavera e Estate. Tutti e due contengono 25 schede in bianco e nero per fare i lavoretti con i bambini. Vediamo ora qual è la scheda di oggi. La scheda di oggi è questa e serve per realizzare un nido con degli uccellini. Allora, oltre alla scheda vi serviranno i colori, forbici e colla. Io adesso devo andarmi a prendere i colori. Eccoli qua, ok? No, che ho sempre tutto a portata di mano, tranne quando faccio i video che poi spariscono. Allora, rieccomi qua. Stavo cercando altri colori perché volevo utilizzare le matite colorate per fare il nido. Perché? Questa mi serviva marrone. Vediamo se lo trovo. L'ho trovato. Allora, l'ho trovato ma è senza punta, ma vediamo se va lo stesso. Sì, dai. Allora, ce la possiamo fare. Allora, vi dicevo che in questo caso, essendo una superficie, la superficie da colorare molto ampia, preferisco utilizzare le matite colorate. Perché così riesco a colorare in modo più veloce la superficie che, come vi dicevo, in questo caso, per quanto riguarda questa scheda con gli uccellini, è abbastanza ampia. Vediamo se la nostra matita colorata ci aiuta fino alla fine oppure se devo farle la punta, ma lo scopriremo tra poco. Tra l'altro questo set da 36 matite, per cui al limite guardo se trovo un altro marrone da utilizzare. Ma secondo me ce la facciamo. Mentre, per quanto riguarda gli uccellini, ho pensato di colorarli con i pennarelli. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta, poi farò la punta. Allora, mi serve un altro marrone. Vediamo se c'è qualcosa di simile. Questo potrebbe andar bene. Vediamo, facciamo la prova. Sì, perfetto. E vi ricordo che la scheda è riservata agli iscritti al Club di Bimbi Creativi. Quindi, se non vi siete ancora iscritti, potrete scoprire tutti i vantaggi dell'iscrizione, che tra poco vi dico, scusate la tosse, nel link li trovate qua sotto nei commenti. Allora, quali sono i vantaggi dell'iscrizione? Allora, innanzitutto potrete ricevere direttamente sulla vostra e-mail queste schede, che sono sempre nuove e diverse, e sono un minimo di tre a settimana. Così avrete tutta la settimana coperta per poter fare i lavoretti con i bambini. Queste schede, poi, oltre a riceverle sulla vostra e-mail, le trovate sempre disponibili nella libreria dei contenuti. Quindi, se quella settimana non avete voglia di utilizzarle, non c'è problema perché le potete sempre recuperare e quindi utilizzare quando volete. Oltre a queste schede, nell'interno della libreria dei contenuti, quindi trovate anche gli e-book dove vado a fare le raccolte delle schede, quindi per argomento, per facilitarvi la ricerca delle schede. In più avrete accesso ad un gruppo esclusivo Facebook, dove faremo e dove stiamo facendo i laboratori creativi online. Quindi, una volta al mese, potrete partecipare gratuitamente ai laboratori creativi online, che si svolgono, appunto, all'interno del gruppo Facebook. Anche in questo caso, se non avete tempo di partecipare quando c'è la data definita da calendario, potrete sempre partecipare successivamente, perché i laboratori restano comunque registrati all'interno del gruppo Facebook. Quindi, non preoccupatevi che, se ve li perdete, potete sempre trovarli registrati. Altra cosa fondamentale è il, adesso qui coloro anche dietro il pezzettino di ala, poi vedrete perché. Altra cosa fondamentale è che per ogni iscrizione, quindi per ogni persona iscritta, avete la possibilità di ricevere un e-book gratuito tra quelli dei lavoretti creativi. Per cui, anche questi che vi ho fatto vedere prima, primavera o estate, lo potete ricevere gratuitamente iscrivendovi al club. Ovviamente, su Amazon trovate la versione cartacea, invece, quello che riceverete gratuitamente è l'e-book, e quindi dovrete poi stampare le schede. Nel frattempo, sto andando avanti a colorare i miei uccellini. E poi, ecco, altra cosa fondamentale è che all'interno comunque del gruppo Facebook esclusivo potrete sempre dialogare con me, se avete bisogno di consigli, se avete delle proposte da fare, se vi serve qualche scheda particolare su qualcosa, potete sempre contattarmi. E come ho fatto in passato, anche sul lavoretto, ad esempio, per il control bullismo, mi è stata data l'idea da un'iscrita al club e, insomma, ho creato questo lavoretto, non so se ve lo ricordate, del pugno che si apre e che contiene un fiore. Allora, andiamo avanti. Come tutte le schede, una volta che le avete colorate, poi dovrete ritagliarle e incollarle nel modo in cui vi farò vedere tra pochissimo. Allora, ormai gli iscritti hanno ricevuto, mi sembra che questa sia la scheda numero, forse la 65, la 64, la 65, quindi come potete vedere, anche nella libreria dei contenuti sono presenti moltissime, moltissime schede, oltre, poi, come vi dicevo, al fatto che riceverete anche un ebook gratuito e quindi altre 25 schede da colorare, per cui è perfetto per non avere più nessun pomeriggio di noia oppure per evitare che i bambini passino tutta la giornata alla televisione o al tablet. Ecco qua. Allora, questo che sto tagliando è il nido, quindi si parte da questo oppure potete partire anche dagli uccellini. Tra l'altro, gli uccellini, adesso vi faccio vedere come assemblarli, sono molto molto semplici e potete utilizzare questa tecnica anche per lavoretti che vorrete fare in futuro. Come potete notare, tutta la scheda si basa un po' sui cerchi o comunque le forme ovali e vedete, insomma, che con un cerchio, anzi, con due cerchi di dimensioni diverse, è possibile realizzare un nido, mentre con un cerchio e qualche disegno all'interno è possibile realizzare gli uccellini. Allora, il nido vado a movimentarlo un po' tagliando le frange in questo modo, quindi lungo la linea dritta vado ad applicare dei tagli per movimentare il mio nido. in questo modo, anche se non sono precisi. Volendo potete farne anche di più. Adesso questo diciamo che è il minimo che potete utilizzare, dipende un po' dall'effetto del nido che volete. Adesso magari vi faccio vedere come viene così e come viene tagliandone un pezzettino più fitto, così potete vedere come vi piace di più. Allora, qui vado, come vi dicevo, a tagliare e poi vado un po' a movimentare, magari piegando un pochino queste alette. Potete anche movimentarlo piegandone, non dico una sì e una no, però un po' così. E piegandole verso l'interno, in questo modo. Così si dà un po' l'effetto di movimento al nido e resta sempre visibile la parte colorata. Se invece lo alzate molto, vi consiglio di colorare anche il retro, ovviamente prima di averlo tagliato, perché così vi risulta più semplice, se no dopo. Ecco qua, quindi il nostro nido è pronto. Non ci resta che andare a inserire gli uccellini. Allora, il primo uccellino sarà questo rosso, che tra l'altro, come avete visto, mentre coloravo il rosso è quasi finito, ma non importa. Vado a tagliare qua, questa è una parte molto importante, e ad eliminare questo pezzettino per dare la forma della testa dell'uccellino tonda. Poi qui dove ci sono le ali, vado a praticare dei tagli. A questo punto avete due possibilità. Se volete l'uccellino in questo senso, piegate l'ala così, e andate poi a girarla un po' come volete. Se invece volete l'uccellino nell'altro senso, allora andava colorato anche di qua, oppure potete lasciarlo bianco con l'ala colorata come volete, e poi andava messo così. Quindi potete usare l'uccellino in entrambi i modi, in base all'orientamento che decidete, sta a voi colorare una parte piuttosto che l'altra. Vado a tagliare anche il becco dell'uccellino, e poi l'occhio. Ecco, come potete vedere, questa scheda è abbastanza impegnativa, comunque non è proprio di, diciamo, di facile realizzazione. È di facile realizzazione, ma prevede tutta una serie di passaggi, per cui se il bambino è piccolo, magari ha bisogno di essere aiutato, mentre i bambini un po' più grandi possono fare tranquillamente da soli. Per quanto riguarda l'età dei... Ecco qua, vedete che carino il primo uccellino? Non so se si vede... Ok. Allora, per quanto riguarda invece l'età delle schede, allora le schede sono pensate, diciamo, dai tre anni, con l'aiuto ovviamente di un adulto, fino ai dodici, dipende molto dal bambino, nel senso che ci sono bambini di dodici anni che adorano, o anche di più adorano fare i lavoretti, mentre ci sono bambini che magari già a sette, otto anni non hanno più questo interesse. Quindi dipende molto dal tipo di bambino. Sicuramente fino agli otto anni, perché comunque fino agli otto anni sono nella fase della scoperta, e queste sono sicuramente attività che gli interessano, scusate, e quindi possono essere molto molto utili, anche poi per lo sviluppo psicofisico, per acquisire una buona manualità, per tenerli lontani da videogiochi e altre cose, sono sempre un'alternativa molto valida. Poi, con le schede, potete anche acquisire tutte queste, diciamo, tecniche che vi mostro, come questa di trasformare un cerchio in un uccellino, e poi potete lasciare libero il bambino di applicarle anche in altri ambiti, perché magari con i cerchi gli viene in mente di creare qualche altro animale oppure qualche altro insetto. Allora, vado ad attaccare il secondo becco e l'occhietto. Ecco, io in questo caso li farò tutti nello stesso senso, quindi li metterò tutti che guardano di là. Però, come vi dicevo, se colorate il retro e piegate l'ala dall'altra parte, potete anche metterli nell'altro senso. Ok, e ora andiamo a ritagliare l'ultimo uccellino, questo azzurrino. Poi potete farli dello stesso colore, potete anche lasciarli bianchi, non la toglie che anche gli uccellini bianchi sono comunque molto carini, quindi potete fare come volete. Vi faccio rivedere i passaggi per ritagliare l'uccellino. Allora si taglia la testa, si fa qui un bel taglio che ci serve poi per piegare l'ala, e qui tanti tagliettini per le ali. Arrivato a questo punto, piego e qui muovo un pochino le ali verso l'interno in questo modo. Vado poi a ritagliare il becco e l'occhietto del mio uccellino. Si ritaglio in modo grossolano e dopo andrò a tagliarli bene bene. Ok, ecco qua, qua giro, così, e ho il mio occhietto. e qui ho il becco. Come sempre vado a incollare e poi incollerò l'uccellino all'interno del nido, in questo modo, così. Ecco qua, vado ad incollare il mio uccellino nella parte mancante qua del nido e voilà, ecco fatto il mio nido con uccellini. Come vi sembra? A me, devo dire che piace moltissimo, mi piace molto l'idea del nido che resta un po' così svolazzante e anche delle ali degli uccellini. È perfetto tra l'altro per la primavera, vedete? Potete o lasciarlo così che quindi si veda dall'alto oppure potete anche appenderlo e usarlo come quadretto. Potete anche mettere delle frasi o qualcosa o una poesia sul retro oppure far fare un altro disegno ai bambini. Per oggi è tutto, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me, vi ricordo di lasciare un like se quello che ho fatto vi piace e di iscrivervi al club cliccando nel link che trovate qua sotto. Ci vediamo presto con la prossima idea creativa. Ciao a tutti!